Dal preventivo alla progettazione al fine lavori, fornendo gli strumenti per accedere ai canali di finanziamento e le opportunità che la Regione sta mettendo in campo per rilanciare il mercato turistico del territorio. Incontro al Comune di Capodorlando organizzato dall'assessore Rosario Milone per la programmazione turistica in vista dell'uscita dei nuovi bandi. Massiccia la presenza degli operatori del settore. È un'opportunità e un'opportunità per tutti. Mi fa piacere, come dici tu, che il territorio ha risposto perché fondamentalmente è vero che la Regione, la loro stasi, ce la fa pesare tutti perché ha tantissimi anni che non usciva un bando di questo tipo. Perciò nel momento in cui è uscito mi sono premurato di farlo sapere. Ringrazio l'inquadro e tutti quelli che oggi sono qua a lavorare per noi e per il nostro territorio. Io penso che se la gente ha voglia di investire, questo è il momento giusto, se la voglia è quella di far crescere il territorio, approfittiamo di questi bandi perché fondamentalmente la pecca che abbiamo è quella nei posti letto. Oggi si ha il modo in cui alzarlo e realmente vendere ancora meglio il prodotto Capodorlando. Concrete opportunità per gli operatori del settore, illustrate dagli esperti di inquadro, società leader nei settori di supporto, progettazione e consulenza nell'ambito turistico ricettivo. Ci sarà un bando con un fondo perduto dell'80%, fondo perduto di questa entità mai esistito in Sicilia e quindi sicuramente sarà un qualcosa da prendere al volo. Sarà una checklist alla quale sarà sottoposta la ditta, si vedranno quali sono le condizioni e se ha la possibilità di effettuare il bando e subito dopo si presenterà la domanda dove, ripeto, oltre al bando all'80% ce ne saranno altri al 40-50%, quindi tutti i bandi appetibili e molto importanti per il territorio. Dall'uscita del bando, che dicevamo molto probabilmente sarà a fine dicembre, ci saranno almeno 90 giorni di tempo dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale e in 90 giorni di tempo c'è tutta la possibilità di giostrarsi per poter presentare la domanda di finanziamento.